Buongiorno, sono qui per presentarvi il presepe fatto con il panettone al cioccolato. Una cosa semplicissima ma molto carina e molto efficace. Questo è uno dei tanti modi per fare appunto il presepe con il panettone. Allora, per farvi vedere meglio andiamo a smurare il panettone facendo tipo una capalla. Anche normale non fa niente, non troppo altro perché sennò questo qua rimane troppo morbido e caderebbe. Questi pezzi non li buttiamo perché ora vi faccio vedere come li vedremo. Allora, la capanna è stata fatta. Adesso dobbiamo fare le stazionate e gli alberelli in una maniera molto semplice. Allora, prendiamo il cioccolato piatto sbagliato a bagno marriano. Facciamo un cappuccetto. Adesso vediamo come si fanno le stazionate. Le facciamo su della carta da forno così non si attacca. Unite di modo che quando si freddano rimangono tutte compatte, più grandi, più piccole. Ecco, queste sono le stazionate. Adesso lasciamo qualche alberello, sempre con la scuola da bianca. Ovviamente ci sono tanti modi per fare queste cose. Io vi sto insegnando quella più semplice per voi a casa. Tagliamo la punta. Lasciamo l'alberello in questa maniera. L'alberello in questa maniera. L'alberello in questa maniera. L'alberello in questa maniera. Adesso, prima che tirghia cioccolata, questo sarebbe zucchero semulato normale con un po' di colore verde. Volendo, si può anche non mettere, però viene più carino. Per fare questo, prendere lo zucchero normale con un po' di colorante verde che si trova in tutti i negozi. Basta fare così e lo zucchero diventa verde. Adesso andiamo a grassare il panettone. Allora, prendiamo la cioccolata. Ho sbagliato a bagno maria. e con un pennello da cucina cominciamo a grassare il panettone. Questo serve anche per non farlo indurire perché facendo la crosta di cioccolata il panettone rimane morbido per molto tempo. Finito di grassare, lo mettiamo sul piatto. Ho messo un po' di cioccolata sotto per non farlo muovere. E questa è la capanna grassata. Adesso andiamo a grassare questi pezzi che prima avevamo detto che ci servivano. sempre con il pennellino, ricoprire da tutte le parti e si mettono come uno ritiene più bello. Come avete visto, fino a qui è molto semplice. Una cosa che possono fare tutti è un bellissimo regalo di Natale. Ecco fatto un altro pezzetto. Eppure questi pezzetti sono stati grassati. Adesso con un po' di cioccolata bianca facciamo tinta come se fosse il ghiaccio. La notte di Natale va freddissimo, la neve. E questo è tutto il ghiaccio che si è formato sulla capanna. Ecco fatto. E quindi adesso con un po' di marmellata con un po' di marmellata spennelliamo un pochettino qui. per farci attaccare lo zucchero verde che avevamo fatto prima, che sarebbe il muschio, l'erbetta che si trova sulla capanna. Guardate come viene carino. e tutto intorno al piatto per fare il prado. Facciamo un altro ghiaccio di marmellata. Palla attaccare. ricoprendo tutto in giro del piatto. Adesso andiamo a montare le stagionate e gli alberelli. Anzi, prima prendiamo la Sacra Famiglia. Questa qua si può fare sia di pasta di mandorla o la prendete già fatta. può essere fatta sia di pasta di mandorla che conviene comprarla già fatta. O sennò anche quelle là di plastica. Basta che ci si mette un po' di carta argentata sotto e sopra per non farlo toccare sul panettone diciamo. Mettiamo dentro. Mettiamo dentro. un po' di zucco e la granella che fa i ciastolini. E andiamo a coprire anche il pezzo di carta argentata che si viene. Mettiamo le stagionate e gli alberelli. e li attacchiamo con la cioccolata. Questi li possiamo mettere a piacere a nostro gusto. Basta che riempiano bene il piatto. Spostare un po' lo zucchero alla intingione della cioccolata. Spostare un po' lo zucchero perché sennò non si attaccherebbero al piatto. E poi rimettercelo per coprire. Mettiamo un'altra qua sopra che mi piace. Adesso gli alberelli. Beverli bene nel cioccolato così si attaccano meglio. Poi sta a voi a mettere più alberelli o più stagionate le pecorelle. Io adesso l'ho fatto semplice semplice per far vedere come funziona. Questo è il presepe di cioccolata. Io mi chiamo Piero e ci vediamo al prossimo video. A riedereci. Ed ecco il risultato finale. E quindi anche per farlo.